addirittura per il lancio e sono partiti dall'esterno è proprio il numero 4 di Nelson Caparra che va al comando nei confronti di Fiorindo Zarr poi è partito forte Mattasdra che dalla seconda fila si va a condurre Mattasdra nei confronti di Nelson Caparra e poi il 2 di Fiorindo Zarr l'1 di Medoc Blue 200 in 14,3 mentre è partito in mano Landemann che è scoperto il gruppo già si è allungato c'è probabilmente lo scambio con Nelson Caparra e Staffieri che tornano su Mattasdra dopo i primi 400 veloci in 29,2 e così al comando di Nelson Caparra nei confronti del 10 di Mattasdra il 2 di Fiorindo Zarr poi Medoc Blue, Nashville Mark, all'esterno gira Landemann quando i cavalli adesso arrivano ai 600 metri con un parziale più comodo però comunque veloce la prima parte di gara adesso c'è il rallentamento che è abbastanza evidente con il Landemann che sta risalendo quando si va ai 800 di gara comunque passati in 1 e 1 sempre Nelson Caparra al comando sempre Mattasdra secondo poi Fiorindo Zarr Landemann avanti e così siamo in 1 e 7 il primo il 7 di Nashville Mark con al comando Nelson attaccato da Fiorindo Zarr poi all'esterno il 7 di Nashville Mark con i cavalli che sono all'uscita dalla curva al comando è Nelson Caparra ma Fiorindo Zarr che sta attaccando poi all'esterno Nashville Mark con Nashville Mark Angelo Boccia che sta passando e Nashville Mark che va a vincere nei confronti del numero 8 di Nilema per il terzo posto il 2 di Fiorindo Zarr 1-17-3 la vittoria per Nashville Mark che aveva corso bene l'ultima volta e i festeggiamenti per Angelo Boccia che va a vincere 7 al primo 8 al secondo 2 al terzo poi per il quarto posto vediamo il numero 4 di Nelson Caparra sull'11 di Maremma spin tutto